Il Tribunale dei Riesame di Catanzaro ha rimesso in libertà l'ex Presidente della SACA, la società di gestione dell'aeroporto di Lamezia Terme, Massimo Colossimo, e la dirigente dell'Ufficio Legale e Affari Generali Esther Micchienzi. I due erano agli arresti domiciliari riguardo alcuni illeciti nella gestione delle assunzioni. Le accuse che vengono ipotizzate dalla Procura della Repubblica Lamettina sono di peculato, falso e abuso d'ufficio. Dopo che il GIP della città della Piana aveva rigettato la richiesta di revoca dell'arrestato, i difensori degli indagati, gli avvocati Cantafora, Scuteri e Ioppoli, hanno presentato istanza al Tribunale dei Riesame, che l'ha accolta restituendo la libertà. L'inchiesta resta comunque aperta e potrebbe avere ulteriori sviluppi nella prossima settimana.